Ciao, buongiorno. Oggi voglio fare un contenuto che mi ha ispirato, una allieva che sta facendo il percorso Voce Essenza, che ha detto che questa cosa è rivoluzionaria, perché io per tanti anni ho fatto fatica nel canto pensando di dover prendere aria, pensando di non essere adeguata nella gestione del mio flusso d'aria, pensando di non avere abbastanza spazio nel quale mettere aria. Non serve prendere aria per quel momento di canto che è una parola, una piccola frase. L'aria che tu prendi, la tua inspirazione, serve per il prosieguo di quella parola, per la coda della tua frase o per il vocalizzo successivo. Ti faccio un esempio con la macchina. Stai tornando a casa e ti si accende la spia dalla benzina, sei in riserva, ti fermi al distributore. La benzina con cui torni a casa non è la benzina che hai messo al distributore. La benzina che hai messo al distributore ti servirà il giorno dopo, ti servirà quando riprenderai la macchina per il viaggio che dovrai fare. Quando io prendo aria, nel mio momento inspiratorio, non sto poi subito dopo andando a mettere in voce quell'aria, ma l'aria che sto prendendo, come... ma l'aria che sto prendendo, che hai appena visto prima della mia frase, ma l'aria che sto prendendo, che in realtà sto permettendo, questo è un altro livello di approfondimento del percorso voce senza. Una cosa è prendere aria e una cosa è permettere all'aria di entrare, ma l'aria che sto prendendo non è l'aria che sto usando adesso in questa frase, se non nella parte finale della stessa, ma è l'aria che userò dopo. Il tronco cerebrale, la parte rettiliana del nostro cervello, la parte più antica, più primitiva, quella che respira sempre, quella che fa battere anche il cuore, quella che organizza i nostri sistemi autonomi, quelli che tu ci pensi, non ci pensi, ti ricordi, non ti ricordi, sei sveglio o dormi, dormi anche quando sei sveglio. respira sempre, respira sempre, quello è il cervello che respira per la voce, quello è il respiro della voce, quello lì, non quello che noi facciamo con la neocortex, con la neocorteccia noi andiamo a rifornire l'aria, andiamo a rifornirci per poter tenere quella frase più a lungo di due o tre parole, per tenere quella frase lunga quanto il direttore d'orchestra o la base o la band mi chiede di tenere, o per il vocalizzo dopo. Se io devo fare una... L'aria non l'ho fatto, se io devo fare una... Hai già tutta l'aria che ti serve per fare un vocalizzo. L'aria che prendi adesso... Non è l'aria che usi ora, perché tanto comunque ne bevi ancora. Butto fuori tutto... Non ho respirato, prima di quel vocalizzo. L'aria che tu usi nella tua messa in voce non è l'aria che hai appena preso. L'aria che tu prendi spontaneamente, quando non canti, è l'aria perfetta per il tuo cantato. Qual è la differenza? Che quando non canti, l'aria entra ed esce, entra ed esce, entra ed esce, mentre parli, mentre ascolti, mentre mangi, mentre dormi, mentre fai l'amore, l'aria entra ed esce. Qual è la differenza? Qual è la differenza quando canti? Inspiro, mi fermo. Non devi perché canti, ispirare un chilo d'aria in più. Inspiro, ispiro, 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 mi fermo e da lì parte il mio vocalizzo. Poi c'è modo e modo di fare i vocalizzi, per quello abbiamo creato il percorso Voce Essenza. Poi c'è modo e modo di portare questa consapevolezza nel cantato, che non vuol dire cantare pensando alla tecnica, vuol dire fare una fase applicativa in cui questa consapevolezza si espande e abbraccia anche il tuo cantato. Ma questo è una scoperta, è una meraviglia, è una sensazione orgasmica che avviene grazie ad un percorso consapevole. Quindi rimaniamo nel respiro, che è la base, il fil rouge, l'arrivo di un canto corretto. Tanto è vero che poi quando canti correttamente arriva un momento in cui dici Ho capito come il mio corpo può respirare. Ho capito come devo appoggiare, tra virgolette, perché l'appoggio non si fa, l'appoggio si permette. Ho capito come permettere a quel sostegno di tenere su il mio suono, di portare fuori il mio suono. Non sono io che lo spingo, non sono io che lo porto fuori. Io mi devo limitare, mi posso limitare a cantare, a godere di quello che sto facendo. Ma non mi sono mai spostato da lì. Da quel tenere il mio respiro. Inspiro, espiro. Inspiro, mi fermo. In quel fermarmi scopro l'appoggio. In quel cominciare a produrre suono, che sia un vocalizzo, che sia la fase applicativa, che sia il cantato. Io sento ciò che mi sostiene. Ricorda che se il respiro è ciò che sei, anche la voce, essendo respiro, è ciò che sei. Se ti senti pronta, se ti senti pronto a un percorso individuale, verso la riscoperta del tuo respiro spontaneo, fisiologico, vocale, grazie allo strumento del canto, anche se non sei un cantante. Perché noi lavoriamo molto con i cantanti, ma lavoriamo altrettanto tanto con i non cantanti. Quindi dipende da te. Ti senti pronto a un percorso individuale che ti aiuti a riscoprire il tuo respiro, che ti aiuti a riscoprire la tua voce, ciò che tu sei a livello di suono, di vibrazione, di sensazione. Wow, che bello stare nel mio suono, stare nel mio canto, stare nel mio respiro. Ed è così, come mi diceva l'allieva di prima, che le persone che ascoltano e che ricevono il tuo canto ti dicono, mamma mia, come sei migliorato, mamma mia, come... Questa persona mi diceva che le hanno detto che è meraviglia sentire questa tua voce così autentica che esce. Com'è possibile? Perché lei non ha lavorato sul cercare di rendere autentica la voce che esce. Lei non ha proprio neanche cercato di far uscire il proprio suono. Sai quanti ci scrivono, come faccio a portare fuori la mia voce? Tienila dentro. Tienila dentro. Come faccio a prendere più aria? Oh, io ho un blocco in respiro, oh, io ho un deficit respiratorio. Stai dentro. Osserva. Ascolta. In, out. Il tuo respiro entra, il tuo respiro esce. Il tuo respiro entra, il tuo respiro esce. Decidi di cantare, il tuo respiro entra, ti fermi. Fermo. Non devi prendere più aria. Non devi respirare. Oddio, adesso aspetta, devo respirare con la pancia, perché mi hanno detto che il diabolus è qui nella respirazione alto clavicolare. Oddio, mi sgozzo, faccio fatica. Come direbbe Lotz, chiudi le aperture, chiudi gli orecchi, chiudi gli occhi, chiudi anche la bocca, in senso ampio. Ascolti e se ti senti pronto, come ti dicevo prima, per un percorso individuale, contatta la nostra segreteria, richiedi una call di svolta, vai sul nostro sito, troverai tutte le indicazioni. E selezioniamo solo, esclusivamente, persone motivate. Noi siamo degli accompagnatori in un processo di ricerca. Poi, una persona, ricercando dentro se stessa, trova quel suono che la porta, per esempio, una nostra allieva, l'anno scorso, finalista X Factor. Quest'anno la stiamo preparando per Sanremo. Ma è sempre tutto un lavoro di ascolto, di percezione, che poi diventa, nel caso di alcuni performance, nel caso di altri, diventa un percorso di ricerca, di crescita, di consapevolezza di sé e del proprio suono. Oltre che, non meno importante, ma centrale, del proprio respiro. Ciao ciao!